Oggi ripeteremo la prima declinazione. Attenti. Rosa. Rose. Rose. Toppani! Sembra in ritardo. È che non ho trovato il posteggio. Cosa sono codesti schettini? Codesti che? Schettini, codeste rotelle. Ah, i battini. È per fare prima. Siccome la mattina non vedo l'ora, arrivo a scuola. Silenzio, tutti fermi, tutti zitti. Guai, se vedo muovere un muscolo del viso. Altri muscoli si possono muovere? Silenzio. Anzi, continua tu la lezione di latino. Avanti. Rosa. Rosa. Rose. Rose. Poi? Poi. Rose. Tutti zitti, tutti fermi. Guai, se vedo muovere un muscolo, anche non dal viso. Insomma, si ve scappa, tenetevela. Tutti fermi. Tutti zitti. Allora, stoppani, vuoi rispondere o no? Non ci sarebbe la domanda di riserva. Che riserva? Non si inca... Ma che cosa dici? Non si incavolazzi, sorbaestro. All'età sua bisogna s'ammanzi. Allora, continua, avanti. Rosa. Rosa. Rose. Rose. Rosetta. Ma che rosetta? Questa, a Roma si chiama Rosetta. E latino che io parlava? I romani, no? Da noi a Milano si dice Michetta. E quando c'è l'arcommentatore, a Michetta. E adesso basta! Silenzio! Questi li sequestro io e tu vai al tuo posto! Che vuoi, Rosetta? Vai al tuo posto! No, eh! Stoppani! Che è? Che fai? Mi sei bloccato il muscolo! Quale? Questo! Ah sì? Allora resterai in cotesta posizione per tutta la lezione! Carloni, vieni alla lavagna! Continua tu! Stoppani! Rosam. Rosa. Rosa. Eh! Eh! Rosa. Bene, bravo Carloni, bravissimo, vai al posto! Tutti come te dovrebbero essere in questa classe! Tutti come te! Ah! Aio! Carloni ti ho visto, sai? Ma professore! Il tiro è bravo! Vai subito fuori! Ma mi hanno messo qualcosa nel sedere! Ma almeno sta a te zitto! Stoppani! Silenzio! A te sto dicendo fuori! Andiamo fuori! Tutti fermi, tutti zitti! Qua se vedo muovere un muscolo!